bentornati amici con l'appuntamento di video horror della settimana il video di oggi è davvero spaventoso voglio consigliarti di mettere le cuffie e spegnere la luce così potrete immedesimarvi anche voi nel protagonista del video in questi suoi detto questo cominciamo il cacciatore di fantasmi del canale ghost paranormal si è recato in una residenza dove un tempo era abitata da un uomo che di mestiere faceva all'archeologo l'uomo mentre stava lavorando rimenne sottoterra una statuetta dalle sembianze umane l'uomo prese la statuetta la portò a casa sua e dopo poche ore in casa sua incominciarono ad accadere cose molto strane come porte e finestre che sbattevano da sole rumore di passi e strani suoni capendo che la causa di quei fenomeni era da attribuire a quella statuetta l'uomo decise di buttarla nel fuoco per distrungerla ma quel gesto non fece altro che peggiorare la situazione ciò che era intrappolato in quella statuetta fu liberata da quell'istante in poi la casa si neppì di spiriti maligni i filmati che vi mostrerò oggi mostrano ciò che è successo dentro quella casa mentre il cacciatore di fantasmi recatosi sul posto ha cominciato le sue indagini alcune sedie vengono spostate da una forza invisibile è per frazioni di secondi la telecamera sembra impazzire col passare del tempo la situazione non migliora al contrario le cose si fanno sempre più inquietanti e terrificanti ad un certo punto il cacciatore di fantasmi trova una piccola botola quindi decide di scendere giù a controllare non sapendo però cosa li aspetta una volta sceso giù il cacciatore di fantasmi si fa luce con una torcia la stessa si spegne all'improvviso e nell'oscurità più totale qualcosa di non umano emette uno strano verso ciò manda nel panico il cacciatore di fantasmi che tenta di riprendere il controllo e di uscire da quel posto maledetto prima di andar via il cacciatore di fantasmi fa un'ultima panoramica della casa e nota che qualcuno qualcosa lo sta spiando cosa potrebbe essere un uomo un demone fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate nel prossimo filmato un esploratore occasionale è intento ad esplorare questa casa abbandonata chiamata anche la casa degli omicidi appena entrato l'uomo sente dei rumori provenire dal primo piano l'uomo chiede se c'è qualcuno sopra ma non ha nessuna risposta a quel punto decide lui stesso di andare sopra a controllare una volta su l'uomo ricomincia a sentire gli stessi rumori di prima questa volta però sembra che i rumori provengano dal piano inferiore quindi decide di scendere e di andare a controllare e questo è ciò che ha registrato per paura che la situazione potesse peggiorare l'uomo decide di concludere le sue indagini e di andare via da quella casa maledetta fare un tatuaggio non è mai una cosa piacevole a parte qualche piccolo dolore non dovrebbe succedere nulla di strano o di pericoloso non si può dire lo stesso di questo tatuatore che proprio mentre stava lavorando ha uno spiacevole incidente alcuni oggetti riposti su un piccolo scaffale cadono sulla testa dell'uomo la cosa strana è che non c'era niente che poteva causare la caduta di quegli oggetti se analizziamo bene le immagini possiamo notare che gli oggetti non vengono toccati da nessuno ma sembra che ci sia qualcosa di invisibile che li sposti e li faccia cadere sulla testa dell'uomo e io che pensavo che fossero i tatuaggi a far male l'ultimo filmato oserei dire che potrebbe essere agghiacciante il tutto si svolge in giappone questa ragazza è la festeggiata e ad un certo punto vengono spente le luci la festeggiata dovrebbe spegnere le candele ma proprio mentre le sta spegnendo la telecamera riprende qualcosa di veramente inquietante di spaventoso oltre a riprendere la ragazza viene ripresa anche il volto di un'altra ragazza rivedendo quelle immagini le ragazze rimangono turbate soprattutto la festeggiata che guardando quel volto dichiara che quel volto non appartiene a nessuna delle sue amiche almeno quelle presenti quel momento sono sicuro che non dimenticheranno molto facilmente questo compleanno bene ragazzi siamo al termine il video finisce qui noi come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao ciao